Ma eccoci buonasera buonasera a tutte le amiche e tutti gli amici che puntualmente come tutte le sere si sintonizzano con noi qua in diretta via streaming su casalotto.it quindi grazie e tra poco insomma lo ricordiamo subito entreremo nel vivo di questa bella serata in diretta ovvero prima estrazione della settimana ma ricordiamo già che è la numero 8 di questo nuovo mese di gennaio, il nuovo mese dell'anno e allora vado subito a salutarli perché ieri e oggi eravamo da soli ma stasera ci sono tutte e due la coppia al completo lì e Marco e allora ben ritrovati ciao ragazzi sai che io non mi hai detto niente quando sono arrivato sono sempre un po' stronzino mi hai guardato un po' e tra me dicevo chissà cosa pensa stasera no no stasera si è nata di ieri che insomma non è così facile ecco ci vogliono un po' di roccia e anche su altre condizioni del gioco che vedremo insomma se potreste vedervi così perché sai a volte ci sono delle estrazioni che non sono bellissime alcuni sono aperti perché sono quelle che ho letto io caro Marco li dai un occhio tanti chiedono anche l'attesa di Venezia ma andiamo amici a scoprire prima la nazionale perché manca torniamo nel nostro studio e allora andiamo insieme a chiuderla questa ottava è fortunata e bellissima estrazione perché davvero sono usciti dei buonissimi risultati curati ovviamente dai nostri esperti di Marco poi domani pomeriggio ovviamente nella diretta riprenderemo e commenteremo quello che è accaduto finora e ora amici per quelli che comunque giocano anche il Super Nelotto andiamo a scoprire insieme il gioco Superstar 27 mi sembra che fosse allora ritorniamo ancora qua in studio perché abbiamo ancora 4 minuti buoni per stare con le vi ringrazio fin d'ora di averci seguito fino alla fine in questa bellissima estrazione che abbiamo vissuto in diretta con voi io vi saluto e vi ringrazio di averci seguito quindi buon proseguimento di serata do la parola a io e Marco per i saluti finali anche loro noi abbiamo un bel po' di lavoro gratificante per il lavoro che fate davvero con grande professionalità un bacione grazie ancora e a domani su casalotto.it in streaming ciao